Buongiorno e bentornati a padre Gruner risponde dove rispondiamo alle domande di voi tre spettatori vi ricordo come di consueto che potete inviarle a domande chiocciolafatima.it quella di oggi riguarda il giorno di ogni santi nella mia diocesi scrive il nostro spettatore il vescovo ha deciso che il giorno di ogni santi non è più festa di precetto quest'anno perché ricade di sabato può un vescovo modificare l'osservanza di un giorno di precetto la risposta breve è ovviamente no quella lunga e siamo qui per questo riguarda i problemi cominciati col concilio vaticano secondo vedi john altra volta è accaduto nella storia della chiesa che vi fosse un concilio malvagio condannato in seguito dai papi o da altri concili del sesto secolo san gregorio magno condannò un concilio avvenuto nel 533 se non erro era il secondo concilio di costantinopoli ai viscovi della sua epoca che gli avevano espresso delle riserve sui contenuti di quel concilio papa gregorio magno rispose in modo molto semplice e cioè fate come se non fosse mai avvenuto andate avanti nella vostra opera sacerdotale ed episcopale come se quel concilio non fosse mai accaduto ignorate negli insegnamenti e andate avanti ecco un consiglio del genere si adatta alla perfezione anche al concilio vaticano secondo voglio dire ci sono diverse cose in quel concilio che corrispondono agli insegnamenti eterni della chiesa voglio dire ci sono diverse cose in quel concilio che corrispondono agli insegnamenti eterni della chiesa per carità ma in generale come concilio in sé per sé sì certo nella sua totalità esatto dicevo se prendiamo questo concilio nella sua integralità vediamo che esso ha portato frutti malvagi perché eliminare un giorno di precetto come ha fatto il vescovo di chi ci ha scritto significa andare contro una norma ben precisa della chiesa esistono dieci giorni di feste comandate nella chiesa universale io sono nato prima del concilio vaticano secondo esso ad esempio che in canada o negli stati uniti c'erano solo sei giorni di precetto ma questo perché i vescovi canadesi avevano avuto il permesso esplicito da parte del vaticano di non usare quattro di quei dieci giorni di feste comandate e la stessa cosa era venuta anche per i vescovi americani anche se i quattro giorni in america sono leggermente diversi in canada ad esempio venne mantenuto il giorno dell'epifania ma in america no mentre negli stati uniti i vescovi mantennero il giorno dell'assunzione cosa che invece in canada non avvenne erano comunque giorni ben precisi certo e ancora adesso in canada in un giorno di festa comandata a prescindere dal fatto che ricada di sabato o di martedì deve andare a messa appunto stiamo parlando appunto dei giorni di precetto cioè quei giorni di festa comandata in cui è tuo dovere in quanto cattolico ricarti a messa tutti lo sapevano prima dei cambiamenti introdotti dal vaticano secondo e chiunque vivesse in canada doveva seguire quella regola parlo ovviamente dei fedeli del rito latino ma era lo stesso anche per i cattolici ucraini o delle chiese orientali il punto è che sono regole universali che tutti all'interno della chiesa hanno il dovere di seguire nessun vescovo dovrebbe poter poter cambiare tale regola ora è un fatto che le varie conferenze internazionali abbiano ricevuto più poteri rispetto a prima ma per questo vorrei ricordare l'insegnamento sul diritto e la promulgazione di nuove leggi un insegnamento che ci proviene da san tommaso d'aquino c'è un passo molto interessante in merito all'autorità in grado di modificare una legge ebbene per san tommaso un conto è avere l'autorità di farlo un altro e cambiarla a tutti i costi potrebbe essere molto più prudente non farlo facciamo un esempio pratico che ho già fatto in un'altra puntata di questa serie il senso di marcia dei veicoli all'interno di un paese come sapete in inghilterra nei paesi dell'ex commonwealth si guida a destra mentre in tutte le altre parti del mondo tranne in giappone si guida a sinistra ora tecnicamente il parlamento di qualsiasi nazione potrebbe introdurre una legge che dal giorno alla notte cambia il senso di marcia nel proprio paese potrebbero farlo ma fortunatamente ciò non avviene perché una legge del genere creerebbe il caos più totale in altre parole chi possiede l'autorità per introdurre tale legge fa meglio a non promulgarla mai per il mantenimento del bene comune nel caso del senso di marcia l'esempio ancora più calzante perché non è che guidare a destra o a sinistra cambi realmente qualcosa entrambi i metodi vanno bene ma solo che ogni paese è abituato a farlo in una certa maniera da così tanto tempo che cambiare il senso di marcia per un altro tecnicamente altrettanto valido sarebbe comunque sbagliato è proprio quello che argomenta santommaso cambiare una legge per introdurne un'altra e tanto valida non è motivo sufficiente per farlo perché la gente è abituata a quella precedente alle abitudini e alle consuetudini ad essa legate con tutti i problemi che ne conseguono al momento in cui decidi arbitrariamente di introdurre quel cambiamento causando anche un bel po di confusione esatto molta confusione in questo caso anche se il vescovo aveva l'autorità per introdurre un cambiamento alla regola tradizionale della chiesa in realtà non l'avrebbe ma non voglio entrare nell'argomento perché dovremmo parlarne per ore dicevo anche se avesse avuto tale autorità infatti non avrebbe dovuto farlo comunque perché questo getta i fedeli nella confusione più assoluta per usare un eufemismo nella società secolarizzata di oggi perché portare ancora più scompiglio dico io i giorni di precetto servono ai fedeli per renderli più consapevoli della loro cattolicità per così dire per renderli più consci del loro dovere santificare le loro vite è uno dei nostri doveri nei confronti di dio quello di rendere testimonianza della nostra fede specialmente davanti ai nostri vicini secolari e protestanti dobbiamo andare a messa nei giorni di festa comandati perché sono appunto giorni in cui siamo obbligati a farlo perché ce l'ha detto il papa e perché sono giorni importanti che ci aiutano a santificare le nostre vite come hanno fatto i santi santificando quei giorni testimoniamo il fatto che la santa messa è il momento più importante del culto di nostro signore gesù cristo e questo non solo la domenica ma qualsiasi giorno se non possiamo andare a messa tutti i giorni almeno dobbiamo andarci in questi giorni speciali anche perché con la decisione di questo vescovo sembra che i fedeli possano scegliere la vita comoda rispetto al sacrificio il messaggio che traspare è che se la fede diventa scomoda allora possiamo tranquillamente ignorarla e metterla da parte purtroppo è questo il messaggio che arriva ai fedeli da quella diocesi specialmente in un momento storico in cui dovremmo semmai lanciare un segnale opposto al mondo e cioè che la fede è degna di essere vissuta sempre che poi andare a messa qualche giorno in più non è che sia tutto questo sacrificio pensate che molti di noi fanno quasi un'ora di macchina anche di più pur di partecipare alla messa di rito latino io per esempio conosco una persona in sud dakota che deve guidare per ben due ore sia all'andata che al ritorno per poter partecipare alla messa tridentina insomma andare nella vostra chiesa nella vostra parrocchia qualche giorno in più all'anno non è poi una cosa così difficile no assolutamente no ma purtroppo questo è il messaggio che traspare dalle azioni di quel vescovo che lo volesse o meno tra l'altro non credo che egli abbia l'autorità morale per fare una simile cambiamento ne sono tanto sicuro che abbia l'autorità legale ma ma abbiamo già visto grazie a santo maso che la cosa è rilevante in ogni caso negli ultimi anni hanno cambiato così tante regole dando nuove più ampe facoltà alle varie conferenze episcopali che si fa fatica a tenerne traccia ma una decisione del genere priva comunque fedeli di un giorno in più da dedicare a dio che si tratti di un sabato o di un lunedì la cosa è irrilevante i giorni di precetto sono giorni che dedichiamo al signore non si tratta solo di andare in messa ma di comportarci proprio come se fosse una domenica evitando quindi di fare acquisti superflui o di compiere lavori fisici lo scopo è quello di santificare un giorno nel nome di dio e qualunque fastidio possa recarci una cosa del genere beh passa decisamente il secondo piano non ci credete è un giorno dedicato a dio dovremmo parlare con lui dovremmo pregare dovremmo passare del tempo meditando sui misteri del rosario perché la cosa ci rende dei cattolici migliori il fatto è che la santificazione delle feste cioè la domenica così come i giorni di festa comandata è davvero il minimo indispensabile per un fedele e qualsiasi catechismo degno di questo nome vi dirà che non bisogna soltanto andare a messa in quei giorni ma anche passare del tempo in preghiera leggere che so un testo di catechismo o una vita dei santi proprio per santificare maggiormente quella giornata speciale si è esattamente così john è un giorno in cui dovremmo dedicarci completamente al signore la nostra società ci bombarda costantemente di informazioni di qualsiasi tipo e già tutti i giorni dobbiamo dedicarci al lavoro alla famiglia ai nostri interessi e così via per questo e a maggior ragione dovremmo santificare giorni di precetto e non solo quelli più sono meglio è e concentrarci unicamente a dio siamo noi ad essere in controllo quel giorno non dobbiamo dare retta a nessun altro siamo a casa o in chiesa e siamo a completa disposizione di dio con tutti i mezzi che abbiamo a nostra disposizione insomma per rispondere alla domanda del nostro telespettatore anche se il vescovo avrebbe l'autorità per farlo dico tra virgolette e non è comunque detto che ce l'abbia i vescovi non dovrebbero prendere decisioni del genere perché sminuiscono l'importanza dei giorni di precetto e fanno passare il messaggio che tra comodità e fede è comunque meglio stare comodi e ti dirò di più giona anzi quel che sto per dire sono sicuro che non piacerà ai vescovi canadesi di rito latino ma penso che abbiano fatto davvero una pessima figura rispetto ai loro colleghi della chiesa ucraina di rito orientale specialmente qui in canada questi ultimi fatti hanno continuato ad insistere sul fatto che i fedeli debbano astenersi a mangiare carne il venerdì e intendo ogni venerdì non solo durante le feste comandate a natale o durante la quaresima ecco penso che questa decisione dei vescovi ucraini del tutto abbandonata invece dai loro colleghi di rito latino sia motivo di grazia speciale per i fedeli di rito orientale perché questi sacrifici elevano l'individuo a livello spirituale oltre a risaldare il loro vincolo con i vescovi che ne rafforzino la pratica secondo me non è un caso sarei diocesi di rito orientale parlo del canada ovviamente si trovino in una condizione assai migliore delle loro controparti di rito latino e non perché siano più furbi ma proprio perché hanno insistito sull'astinenza e il digiuno durante il venerdì sì abbiamo già affrontato in un'altra puntata l'importanza dell'astinenza di venerdì e io penso che lei abbia ragione padre più la leadership della chiesa parla di preghiera di fede di sacrificio maggiori saranno le grazie che riceveranno nell'amministrazione dei fedeli una cosa di cui abbiamo un disperato bisogno al giorno d'oggi vi ringrazio e arrivederci